Un censimento degli scarichi a mare che possono diventare fonti di inquinamento è quanto ha realizzato e censito l'ARPA Campania che ha preso in esame 475 scarichi in mare di acqua e reflu e di altre tipologie di apporti. Un lavoro di mappatura importante che viene messo a disposizione delle istituzioni, utile per valutare a partire da questi scarichi i possibili fonti di impatto sulla qualità delle acque. I risultati, tutto sommato, come per l'anno passato, hanno evidenziato una buona qualità delle acque, qualche sforamento e lievi punti critici. Lo ha rivelato il Claudio Marro, direttore tecnico facenti funzioni dell'ARPA Campania, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati di Goletta Verde, la storica campagna di lega ambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste, delle acque italiane e lungo le coste della Campania. 475 possibili fonti di impatto sulla qualità delle acque sono state classificate in 10 categorie ed evidenziate su una mappa interattiva consultabile sul sito web dell'Agenzia. Si tratta di un database esaustivo sugli scarichi in mare, di acqua e reflu e di altre tipologie di apporti che viene messo a disposizione di istituzioni e cittadini campani. Uno strumento che sarà utile in caso di fenomeni di inquinamento che dovessero interessare proprio le acque di balneazione, principalmente alle amministrazioni comunali, ma anche ai gestori degli impianti di depurazione, che potranno avere un quadro più chiaro ed immediato delle possibili cause di contaminazione presenti nell'aria e adottare le misure necessarie di rimozione. Noi abbiamo fatto un censimento degli scarichi a mare, scarichi ufficiali, autorizzati, legali, che però possono diventare poi delle fonti di inquinamento del mare e quindi che noi possiamo mettere in evidenza con i controlli che facciamo sulle acque di balneazione. Quindi è un censimento che permette di individuare più rapidamente, più tempestivamente, quello che potrebbe essere la potenziale fonte di contaminazione. I risultati quest'anno non sono diversi dagli altri anni, abbiamo qualità di acque eccellenti quasi in tutta la regione campana, abbiamo dei punti critici ma più o meno sono sempre gli stessi, qualche volta c'è un qualche sforamento che però magari qualche giorno dopo rientra, diciamo niente di diverso rispetto al passato. Non sono mancati episodi tipo spiaggia di Santa Teresa o la parte sud della Litorania, dove i bagnanti hanno richiesto l'intervento anche della Capitaneria, dell'ARPAC per effettuare i preli, perché si notavano delle chiazze strane. Sì ma quelle sono già vietate, quindi anche questo lavoro che ha fatto importante lega ambiente mette in evidenza che alle fuci dei fiumi ci sono delle criticità anche forti, ma quelli sono punti già vietati alla balneazione, quindi niente di diverso rispetto al passato. Però è importante tenere sotto controllo questi punti, perché chiaramente poi hanno delle ripercussioni negative sulla qualità delle acque di balneazione. La schiuma che ad esempio i bagnanti si sono ritrovati sulla spiaggia di Santa Teresa è legata a cosa? Noi abbiamo visto in alcuni casi la presenza di tenzi attivi, quindi qualche scarico non autorizzato eventualmente c'è stato, però i valori di entrococchi e di schiericacoli, che sono i due parametri ufficialmente che dobbiamo monitorare, non hanno dato superamenti.